Don Chisciotte della Mancia, libro secondo, capitolo ventesimo. Nozze di Camaccio il ricco ed avvenimento di Basilio il povero. Appena la bianca aurora aveva ceduto il luogo al rilucente Febo, affinché con l'ardore dei suoi lucenti e caldi raggi asciugasse le liquide perle dei suoi capelli d'oro, Don Chisciotte scuotendo la pigrezza delle sue membra rizzossi in pie e chiamò il suo scudiere Sancio il quale tuttavia stava ronfando. Vedutolo dormire a quel modo prima di svegliarlo sclamò Oh tu bene avventurato sopra quanti vivono sulla faccia della terra perché senza invidiare né essere invidiato riposando stai con tranquillo sonno né incantatori ti perseguitano né ti agitano incantamenti. Dormi tel dico te lo ripeto ed altre cento volte te lo andrò ripetendo. Dormi senza che ti tengano in perpetua veglia le gelosie per la tua dama o ti destino pensieri affannosi di debiti o la cura ad alimentare te e la tua piccola ed angustiata famiglia. Ora nell'ambizione ti inquieta né ti molestano le vane pompe del mondo poiché i tuoi desideri non si estendono oltre il pensiero del tuo asino mentre quello della tua persona l'hai posto tutto sulle mie spalle. Gravezza e carico che la natura e il costume appoggiarono ai grandi. Dorme il servo e sta vegliando il padrone e pensa al modo di sostenerlo di migliorarne lo stato e di concedergli qualche favore. L'angustia di vedere che il cielo si fa bronzo e nega la terra la necessaria rugiada non affligge il servo ma si bene il padrone che dè in mezzo alla serilità e alla fame aver cura di colui della cui opera si è servito nel tempo della fertilità e dell'abbondanza. Niente rispondeva sancio a tutte queste esclamazioni perché dormiva. Ne sarebbe si svegliato si tosto se Don Quixote con il piede la lancia non lo avesse scosso e non gli avesse fatto spalancare gli occhi. Svegliossi allora il sonno lente e il fingardo e girandoli di qua di là all'intorno disse. Dalla banda di questo frascato se non mi inganno esce un odore o buon fiato che sa più di presciutto fritto che di giunchi o di semolino. Oh le nozze che incominciano con questi odori devono per l'anima mia essere molto abbondanti e generose. Finisci la ghiottone disse Don Quixote alzati e andiamo a vedere questi sponsali e osserveremo sin dove giunga lo sdegno dello sprezzato basilio. La signoria faccia pur ciò che le pare e le piace rispose sancio che quanto a me poca briga mi prendo. Dovea essere ricco quel signor basilio e si sarebbe sposato con la signora chilteria e bisogna aver quattrini chi brama far nozze nobili e distinte. E in verità che io resto nella mia opinione signor mio che il povero deve contentarsi di quello che ha né di mandare pane buffetto in mezzo al golfo. Scommetterei una mano che camaccio può subissare basilio nelle ricchezze e se così è come debba essere sarebbe pur balorda la signora chilteria a rinunciare alle gioie e ai vestiti che può donarle o già le avrà donate camaccio per preferire lo slancio del palo o il maneggio di una spada di marra che potria unicamente darle basilio e che non valgono un quartuccio di vino all'osteria. Abilità e grazie che non sono vendibili tengasele il conte dirlo ma se queste tali grazie cadono sopra chi ha denari canchero come le paiono buone. Sopra un buon fondamento si può alzare un buon edifizio e la base migliore e la maggiore forza del mondo consiste nel denaro. Per amore di dio sancio disse don quixote finiscila una volta che io sono di avviso che lasciandoti seguitare torneresti sempre da capo e non ti resterebbe tempo né da mangiare né da dormire perché lo spenderesti tutto in chiacchiere. Se vossignoria avesse buona memoria replicò sancio si dovrebbe ricordare dei patti che abbiamo fatto prima che ci allontanassimo dalla patria in quest'ultimo viaggio uno dei quali fu che vossignoria dovesse lasciarmi parlare a mia fantasia a condizione però che non ne restasse offeso il prossimo o lesa la sua autorità e mi pare di non avere contravvenuto finora a questo accordo. Me ne risovviene benissimo rispose don quixote ma ad ogni modo per ora almeno sta tenecheto e seguitami che già gli strumenti da noi uditi la scorsa notte tornano a rallegrare le valli e si celebreranno senz'altro gli sponsali col fresco della mattina né si vorrà aspettare il caldo del mezzogiorno. Obedì sancio e messa la sella arronzinante e la bardella alle arto si avviarono ambedue passo passo ed entrarono nel frascato. La prima cosa che si offerse alla vista di sancio fu un fritello intero in uno schidione di olmo. Nel luogo in cui si doveva arrostire ardeva una buona catasta di legna e stavano sei grandi pignatte d'intorno al fuoco. Non erano queste della solita forma ma piuttosto sei mezzi orci capaci ognuno di contenere una beccheria di carni e basti il dire che ingoiavano castrati interi i quali o non si conosceva che vi fossero od era come se vi fossero tanti piccioncini. Le lepri senza pelle le galline senza penne che attaccate stavano agli alberi per esser poi sepolte nelle pignatte erano innumerevoli. Gli uccelletti le selvaggine le cacciagioni che giacevano apprestate muovevano a meraviglia. Conto sancio più di sessanta otri ognuno dei quali capiva in sé più di due barili e tutti per quanto poi si vide erano pieni di vini generosi. Il pane bianchissimo era a cataste come suole nelle aie esser a monti il grano. I cacci formavano in apparenza altrettante muraglie di ben commessi mattoni e due caldaie di olio più vaste di quelle che si usano nelle tintorie servivano a frigger pastumi che con due grandissime pale si cavavano cotti e si tuffavano poi in altra caldaia di miele che stava accanto. Erano oltre a 50 i cuochi e tutti netti come candidi armellini tutti diligenti e festosi tutti. Nel dilatato ventre di un vitello stavano riposti dodici piccioli porchetti che servivano a dargli sapore e tenerezza. Le spezierie di varie sorti non parevano comperate a libre ma a botti e stavano tutte riposte in ampi cassoni. Finalmente l'apparato era bensì rustico ma così abbondante che avrebbe potuto bastare per un esercito. Sancio pancia adocchiava ogni cosa e a tutto si affezionava. Sulle prime restò imprigionato e vinto dalle pignatte dalle quali avrebbe di buona voglia staccato un pignattino. La volontà passeggiava poi su quei otri né era ritenuto rispetto alle paste nelle padelle se però poteansi chiamar padelle quelle enormi caldaie. Non potendo più resistere né stando in lui di fare altrimenti si accostò ad uno di quei tanti affaccendati cuochi e con cortesi ed affamate espressioni pregò lo che gli concedesse di poter intingere un tozzo di pane in una di quelle pignatte. Al che il cuoco rispose fratello in questo giorno la fame non passeggia da queste bande grazie al ricco camaccio accostatevi pure allegramente e guardate là che troverete qualche mestola e schiumatevi pure una gallina o due che buon provi faccia. Non ne vedo nemmeno una rispose sancio. Aspettate disse il cuoco. Oh poveraccio me che schizzinoso e da poco uomo che dovete essere. E ciò detto prese una caldaia e postala in uno di quei mezzi orci ne cavò due paperi e tre galline e disse a sancio. Mangiate amico e rompete il digiuno con questa schiuma intanto che si fa ora di desinare. Non so dove mettere tutta questa roba soggiunse sancio. E voi portate via rispose il cuoco la mestola ed ogni cosa che la ricchezza e il contento di camaccio suppliscono a tutto. Nel tempo che sancio aveva queste occupazioni stava Don Quixote guardando da una parte del frascato, dove egli scoprì intorno a dodici contadini, sopra dodici bellissime cavalle con ricchi e sfarzosi fornimenti da campagna e con molti sonagli nei pettorali, tutti vestiti da giorno di festa. E questa truppa si misa a fare non una, ma più carriere su per lo prato, con allegre voci e grida, dicendo. Vivano Camaccio e Chilteria, egli è tanto ricco quanto ella è bella e la più bella del mondo. Don Quixote ciò udito disse tra sé. Conviene dire che non abbiano costoro veduto mai la mia Dulcinea del Toboso, che se ciò fosse andrebbero più a rilento nell'odare questa loro Chilteria. Di lì a poco cominciarono ad entrare per diversi parti del frascato molte bande di danzatori, fra le quali una eravi di schermitori di spade all'amoresca, formata da ventiquattro belli e graziosi pastori e vestiti di sottile candidatela, con asciugatoi lavorati di vari colori di fine seta. Uno di quelli, che guidava alle cavalle, dimandò a certo snello Garzone se fosse rimasto ferito alcuno dei danzatori. Nessuno sinora, quelli rispose, e siamo ancora tutti sani. E subito incominciò ad intrecciarsi con gli altri compagni, con tanti giri e con tanta destrezza, che quantunque Don Quixote fosse a vezzo a veder simili danze, nessuna come quella era gli tanto piaciuta. Trovò molto sollazzevole un'altra danza fatta tra bellissime donzelle sì giovani da doverle giudicare tra i quattordici e i diciotto anni, vestite tutte di verdi palme, coi capelli parte intrecciati, parte sciolti, ma tutti sì biondi che gareggiar poteano con quelli del sole, e tutti inghirlandati di gelsomini, di rose, di amaranti e di madre selve. Erano guidate da un venerabile vecchio ed attempata matrona, e l'una e l'altro molto più svelti e leggeri di quello che promettesse la loro età. Si servivano per lo suono di una piva zamorana, portando il leno negli occhi l'onestà e la leggerezza nei piedi, si mostravano danzatrici senza pari. Venne dopo questa un'altra danza di quelle che soglion si chiamare danze parlanti. Era formata di otto ninfe in due schiere, una delle quali era diretta dal dio Cupido, ed ha interesse l'altra, quelli adorno di ali ed arco e faretre e frecce, questi vestito di vari e ricchi colori d'oro e di seta. Le ninfe, che seguitavano amore, portavano dietro le spalle su bianche pergamene scritto i loro nomi. Poesia era il titolo della prima, discrezione quello della seconda, quello della terza buon lignaggio, quello della quarta bravura. Nella stessa guisa andavano contrassegnate quelle che seguitavano l'interesse. Dicea, liberalità il titolo della prima, dono quello della seconda, tesoro quello della terza e quello della quarta pacifico possesso. Erano preceduti tutti da un castello di legno tirato da quattro satiri, tutti ricoperti di ellera e di canapa tinta di verde, sì al naturale che per poco non li spaventarono sancio. In fronte ai quattro lati del castello stava scritto castello di buona guardia e vi stavano d'intorno quattro valenti suonatori di tamburino e di flauto. Cupido cominciava la danza e fatte due mutanze alzava gli occhi e drizzava l'arco contro una donzella che ponevasi tra i merli del castello ed alla quale egli diceva, son io il nome onnipossente nell'aria sulla terra nel profondo del mare e su tutto quello che l'abisso racchiude in orribili volge. Cosa ignota me la paura e posso tutto quello che io voglio, quando anche mi venisse talento dell'impossibile. In tutto ciò poi che possibile è? Io aggiungo o levo comando o proibisco. Terminata la canzoncina egli scoccò una freccia dall'alto del castello e si ritirò al suo posto. Usci poi interesse e fece altre due mutanze. Tacquero i tamburini ed egli disse, io son colui che posso più dell'amore, pure l'amore che mi guida. Io appartengo alla migliore schiatta che il cielo mantenga sulla terra, alla più nota e più illustre. Io son l'interesse, per me pochi tra gli uomini operano virtuosamente ed operar senza me sarebbe un gran miracolo, ma a qualchi io sono mi consacro a te per sempre. Si ritirò interesse e si avanzò poesia, la quale dopo aver danzato a foggia degli altri, posti gli occhi sulla donzella del castello, disse, in dolcissime parole e in eletti pensieri gravi e spiritosi, la poesia ti manda, oh mia donna, la sua anima ravvolta in mille sonetti. Se la mia servitù non ti spiace, la tua sorte invidiata da molte altre donne sarà portata da me al di sopra della luna. Si appartò poesia e dal lato d'interesse uscì liberalità, che fatte le sue mutanze così si espresse. Chiamasi liberalità il donare che tiensi usualmente lontano e dalla prodigalità e dall'estremo contrario, che indizio di bassa affezione all'avere. Madore innanzi per farti grande voglio essere prodigo anziché no, e questo un vizio per certo, ma un vizio nobile proprio di un cuore amoroso che si manifesta coi doni. Uscirono con l'ordine descritto e ritiraronsi tutte le figure delle due squadre, e Ciascheduna fece due mutanze, e recitò suoi versi, quali eleganti, quali ridicoli, ma Don Quixote ritene soltanto nella sua benché grande memoria i già riferiti. Unironsi di poi tutti, facendo intrecci fra loro con gentil garbo e l'estezza, e passando amore davanti al castello, scoccava dall'alto le sue frecce, e interesse bilanciava le sue palle dorate. Finalmente, dopo lunga danza interesse, cavò di tasca un borsone, fatto della pelle di un gatto d'angora, e che parea pieno di danari, e gettandolo contro al castello con l'urto, ne sconnesse le tavole, le quali caddero perciò, e restò la donzella scoperta del tutto e senza difesa. Lei si accostò interesse con le figure della sua fazione, e mettendole al collo una gran catena d'oro, fecero vista di prenderla, di assoggettarla e di incatenarla. Il che, veduto da amore e dai suoi confederati, si mossero come per volere levargliela. Ogni azione seguiva il suono di tamburini, ballando e facendo danze regolari. Mossero, infine, i satiri, rappacificati, e con somma velocità ricomposero le tavole del castello. La donzella vi si riserrò di nuovo, e con questo ebbe fine la danza con grande universale contento. Dimandò Don Quixotte ad una delle ninfe chi fosse stato di quella danza il compositore. Ella gli rispose che fu un beneficiato del suo paese, il quale aveva singolar talento per si fatte invenzioni. Sarei per riscommettere, soggiunse Don Quixotte, che questo tal baccelliere o beneficiato porta maggiore affezione a Camaccio che a Basilio, e che deve avere più del satirico che del comico. Egli vi ha innestato con bell'artifizio le virtù di Basilio e le ricchezze di Camaccio. Sancio Pancia, che stava ad ascoltare ogni cosa, disse, «Prendo le parti della ricchezza e sto con Camaccio». «In sostanza», disse Don Quixotte, «Tu fai conoscere, Sancio, che sei un villano, e di quelli che dicono, viva chi vince». «Sarò quello che si vuole», rispose Sancio. «Ma intanto io so che dalle pignate di Basilio non caverò mai spuma tanto saporita come quella che ho cavata da quelle di Camaccio». E indicando una caldaia piena di paperi e di galline, e togliendone fuori una, cominciò a mandarla giù nello stomaco, con bella disinvoltura, assaporandola e bormottando così. «Alla barba della virtù di Basilio, che tanto vali quanto tieni, e tanto tieni quanto vali, due schiatte solevi sono al mondo», diceva mia nonna. «E sono l'avere e il non avere», ed ella si atteneva all'avere. «E al di d'oggi, signor Don Quixotte mio, prima si tocca il polso alla fortuna e poi alla sapienza. Un asino d'oro pare meglio di un cavallo con bardatura». «Sì, torno a dirlo, io sto con Camaccio che ha pignate piene di schiume di paperi, di galline, di lepre e di conigli, mentre mi immagino che quelle di Basilio non conterranno altro che brodo magro». «Hai tu finito, Sancio, la tua cicalata?» disse Don Quixotte. «La ho finita purtroppo», rispose Sancio, «poiché vedo che la signoria vostra se ne prende fastidio, che se ciò non fosse avrei materia di parlare per tre giorni interi». «Faccia Dio», replicò Don Quixotte, «che tu diventi mudo prima che la morte mi colga». «Col tenore di vita che conduciamo», rispose Sancio, «prima che vostra signoria muoia io sarò ridotto a masticare la sabbia e così non potrò più parlare sino alla fine del mondo o sino al di del giudizio». «Quand'anche fosse così», replicò Don Quixotte, «il tuo silenzio non potrà mai uguagliare le chiacchiere che hai sinora fatte e fai e farai, e tanto più che per ordine naturale devi terminar prima la mia che la tua vita, ma intanto io sono di opinione di non poterti vedere muto nemmeno quando ti stai bevendo e dormendo, che quanto posso mai dire». «In verità», rispose Sancio, «che non è da fidarsi della scarnata, voglio dire della morte, la quale mangia tanto un agnello quanto un castrato, ed ho inteso dire dal nostro procurato, che con piede uguale essa batte alle torri dei re come alle umili capanne dei poveretti. Questa signora è più possente che schizzinosa, non ha niente a nausea, si pasce di tutto, con tutto si confà ed empie le bisacce di ogni razza di gente, età e preminenze. Non è di quei segatori che dormono al meriggio, anzi ad ogni ora segue e taglia tanto la secca come l'erba verde, e non pare già che mastichi, ma si bene che inghiottisca ciò che le si para davanti, avendo una fame canina di cui mai non si sazia. E quantunque sia priva di ventre, pare sempre idropica e si tibonda delle vite di quanti vivono, come se beesse un boccale d'acqua fresca.» «Basta, basta, oh Sancio!» disse Don Quixote a questo passo. «Tienti in reputazione e non ti lasciar cadere, che è certo quello che hai detto intorno alla morte e coi tuoi rustici termini e quanto di meglio potrebbe dirne un predicatore. Ti assicuro, Sancio mio, che se tu avessi tanta discrezione e quanto hai talento, potresti aspirare ad un pergamo e andartene per lo mondo predicando con riuscita.» «Predica bene chi vive bene», rispose Sancio, «ed io non so di altre teologie.» «Né d'altra ne hai bisogno», disse Don Quixote, «Io però non posso intendere o concepire, come essendo il timor di Dio il principio di ogni sapienza, tu abbia più paura di una lucertola che di Domeneddio.» «Giudichi la signoria vostra», disse Sancio, «delle sue cavallerie, né si metta a dare sentenza sui timori o sulle bravure altrui, che io sono tanto timorato di Dio quanto ogni altro, e mi lascivo, signoria, pappare questa schiuma, che del resto sono tutte parole oziose, delle quali dovremo dare conto nell'altra vita.» E detto questo, tornò all'assalto della caldaia con appetito sì grande che svegliò anche quello di Don Quixote, il quale gli avrebbe fuori di dubbio tenuta buona compagnia se non fosse stato impedito da quello che sarò costretto di far sapere qui appresso. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!